ciao a tutti eccoci qua per questo atteso aggiornamento riguardo al nostro metodo di coltivazione e dei prodotti specifici che andiamo a utilizzare se non seguite il canale ne abbiamo già parlato ampiamente c'è proprio una playlist dedicata a questo argomento quindi andatelo un po a vedere già che ci siamo se vi volete iscrivere al canale per aiutarmi a continuare a fare questa divulgazione perché di cosa si tratta parliamo di metodi di agricoltura sostenibile se chiamiamola come vogliamo agricoltura naturale qual è la nostra filosofia appunto è fare un'agricoltura buona a basso impatto ambientale e soprattutto andare ad offrire un prodotto finale senza residui sintetici ok andiamo avanti andiamo a vedere la prima grossa novità che riguarda gli interventi pretrapianto a livello radicale infatti noi facciamo dai tre ai cinque giorni prima della messa a dimora delle coltivazioni un intervento con rn1 bio e sinapis plus ok per andare ad avere un effetto fungicida e nematogida già nel terreno quindi andando a fare questo trattamento in fertilizzazione i prodotti agiranno infatti rn1 bio come sappiamo è un prodotto che ha da un grosso effetto fungicida quindi combatte i funghi in questo caso del terreno perché lo stiamo utilizzando in fertilizzazione e il sinapis plus da molti anni ormai ci dà grossissime soddisfazioni a livello nematogida quindi contro i nematodi del terreno facendo così preparando il nostro terreno al trapianto sicuramente le piantine che andremo a mettere troveranno un ambiente più pulito se vogliamo dire ovviamente consigliato fare anche il bagnetto con questi due prodotti e magari si può aggiungere in questo caso il micro active che è un bio stimolante ricco di micro elementi che contiene una miscela completa di micro elementi di ultima generazione che ha molti effetti positivi non solo in sé diciamo nel prodotto stesso perché fa lavorare bene a livello appunto di attivazione del metabolismo delle piante ma anche perché lavora benissimo con gli altri prodotti che andiamo a utilizzare a livello radicale sempre per il bagnetto io direi di mettere anche tannino 20 l perché è un prodotto è il corroborante per eccellenza è un prodotto che protegge dagli sbalzi di temperatura è preventivo per sia per i nematodi sia per le malattie fungine a 360 gradi quindi sia a livello fogliare che a livello radicale quindi tannino 20 l lavora insieme agli altri biostimolanti come micro active o foliar micro ma lo vedremo dopo insomma io lo metto perché veramente gli effetti positivi sono tantissimi e ci vuole poi cosa facciamo e cosa consigliamo questi stessi prodotti che abbiamo visto poco fa per il bagnetto li andiamo a fare in un intervento sempre a livello infertiligazione radicale il giorno stesso della messa a dimora del trapianto delle nostre coltivazioni quindi ripetiamo un intervento con micro active tannino 20 l rn1 bio e sinabis plus i dosaggi ve li lascerò qui nel video mi aiuterò con delle grafiche perché ci sono dosaggi preventivi dosaggi curativi per non allungare troppo i tempi così facendo le piantine troveranno il terreno già preparato dall'intervento che abbiamo fatto qualche giorno prima il giorno stesso andremo a fare un altro intervento sia quindi preventivo che curativo la cosa importante da capire è questa che se è una malattia di origine fungine o qualsiasi cosa quindi le fusarium marciuma del colletto tutte queste avversità se attaccano dall'inizio la nostra piantina sarà molto difficile non solo curarla ma anche avere dei risultati ovviamente quello che ci interessa è proprio avere una coltivazione di qualità e di quantità poi come proseguire questi prodotti si possono utilizzare periodicamente in base alla condizione in cui siamo se ci sono dei problemi riconosciuti di fusereosi o di nematodi in base alle varietà che state coltivando ad esempio se sono a pianta franca magari gli interventi preventivi vanno fatti dai 15 ai 20 giorni se invece andiamo a lavorare con delle piante innestate magari ci possiamo spostare a 20 30 giorni non possiamo sicuramente pretendere che con un intervento preventivo all'inizio della coltivazione finiamo tutto il ciclo guadagniamo tanti soldi e tutti felici e contenti andiamo in vacanza a dubai ad esempio noi nelle nostre coltivazioni di pomodoro innestato li facciamo una volta ogni 4 settimane quindi ho meno di 30 giorni invece ad esempio questa coltivazione è a pianta franca questo è pomodoro marmante che sta crescendo benissimo le sto facendo all'inizio le ho fatte più ravvicinate quindi magari dopo 10 giorni poi dopo 15 e andrò a 20 giorni ma mai arrivare a 30 giorni o comunque 4 settimane perché perché so che in questo settore ci sono dei problemi appunto a livello soprattutto di marciume del colletto che come sapete nel pomodoro è letale è una malattia che in pochi giorni rovina non dico tutta la coltivazione potrebbe rovinare anche tutta la coltivazione non siamo a questi livelli di infestazione perché da molti anni appunto con il nostro metodo di coltivazione stiamo andando lentamente a risolvere un po tutti i problemi ad esempio i nematodi da noi ormai non sono più una minaccia e facciamo il sinapis plus solo una volta all'inizio come ho detto poco fa quindi in fase di trapianto e poi se c'è bisogno dopo un mese e mezzo due mesi se si vede qualche piccolo problemino si percepisce già dal colore della foglia o almeno se si ha un occhio attento ma nella maggior parte dei casi soprattutto nelle coltivazioni di pomodoro innestato non lo ripetiamo va bene perché negli anni abbiamo debellato questo problema i nematodi da noi sono spariti ok adesso andiamo a vedere un po i trattamenti a livello fogliare togliamoci subito quelli in polvere che bene o male il metodo è uguale rispetto all'ultimo aggiornamento cioè utilizziamo il tannino 20p 20 polvere e allungato con zolfo semplice zolfo ventilato e zeolite quindi facciamo una parte una parte una parte vi consiglio di farlo a volume ecco semplicemente prendete un secchiello di ogni prodotto li miscelate anche grossolanamente perché ad esempio all'inizio si possono fare anche a mano questi trattamenti o col famoso sacco a rete o il collant insomma ci possiamo inventare un po quello che vogliamo già a piantina si possono fare infatti noi lo facciamo dopo il bagnetto o doccetta come preferisco fare io alle piantine poi faccio questa spolveratina a mano leggerissima con le polveri ok poi vi consiglio di fare un altro intervento anche così manualmente perché non è necessario di andarlo a polverizzare benissimo prima di di andare a legare ecco le vostre piantine nel caso del pomodoro se sono altre piante insomma prima che della fioritura ecco prima della fioritura delle nostre coltivazioni perché aiutano tanto queste polveri in questa fase va bene ci daranno un'ottima fioritura perché tendenzialmente asciugano ok mantengono i tasse di umidità più regolari possibili e la fioritura come sapete l'umidità eccessiva dà fastidio un po a tutte le coltivazioni alle fioriture di un po tutte le coltivazioni quindi con questo trattamento in polvere fatto poco prima della prima fioritura scusando il giro di parole avrete dei risultati ottimi dopo si può fare ancora sì come ad esempio qui ormai siamo arrivati quasi all'apertura del quarto palco floreale e si potrebbe fare un bel intervento con le polveri magari con un solfatore ok o un polverizzatore un macchinario del genere perché già la pianta è molto più grande e se continuiamo a fare i trattamenti preventivi sia a livello fogliare che radicale insomma ne ha di roba addosso sta crescendo bene in generale ma cresceranno bene in ogni caso se qualsiasi tipo di coltivazione se viene nutrita bene ok è alimentata bene una coltivazione crescerà bene forte e sana ok però dobbiamo dare tante cose in base al tipo di coltivazione soprattutto il pomodoro è più esigente tornando al discorso si potrebbe fare un intervento ma non ho avuto il tempo spero di averlo ma se c'è qualche volontario che lo vuole fare siamo qui e lo dico anche se l'ho detto non so quante volte questi trattamenti con le polveri non fanno assolutamente male alle fioriture non danno problemi di allegagione non danno problemi di scottature ovviamente non li dobbiamo fare con i 40 gradi sia all'interno di una serra sia all'esterno quindi o in tarda serata nei periodi estivi o in tutto il resto dell'anno di buon mattino ok e non ci sono nessun problema né con gli impollinatori e già tutte le cose che ho detto ma se voi lo andate a fare con appunto 40 45 gradi all'ombra qualsiasi cosa andate a fare anche se date solo acqua alle vostre piante farete dei danni no perché poi c'è qualcuno che dice ho utilizzato zolfo e ho fatto danno alla coltivazione ma bisogna saperlo utilizzare le cose va bene ma sono anche nozioni proprio basilari ok andiamo avanti adesso vediamo i trattamenti fogliari acquosi che cosa utilizziamo nei trattamenti fogliari acquosi innanzitutto è un'altra novità utilizziamo foliar micro che sarebbe un biostimolante sempre ricco di micro elementi con una miscela di ultima generazione completa di micro elementi che non solo ci dà l'effetto di stimolare la crescita della nostra pianta in maniera equilibrata attenzione ma è di migliorare le fioriture ok a livello di polline di grandezza del grappolo e tutte queste cose belle ma lavora benissimo con gli altri prodotti ok in primis con il tannino 20l di fatti noi cerchiamo di metterlo sempre l'uno e l'altro e il dosaggio cambia in base al periodo in base alla coltivazione e come sapete come abbiamo già detto nel nel pomodoro i dosaggi magari preferiamo farli un po più alti io vi parlo intanto di quello che noi facciamo nel pomodoro nelle coltivazioni di pomodoro nelle altre coltivazioni in generale quelle che si fanno nell'orto se vogliamo dire si possono diminuire di molto alcune cose si possono anche togliere ad esempio per dirne una fra tutti le cucurbitacee magari sono meno esigenti delle solle nacee e ci sono anche proprio delle differenze grosse di a livello di coltivazione nella prevenzione delle malattie quindi continuando il discorso dei trattamenti foliari stavo dicendo foliar micro tannino 20l e variano i dosaggi in base a tanti fattori e poi quello che non può mancare è rn1 bio anche in questo caso e qui parliamo che a livello preventivo già 2 ml litro bastano va bene fino a 5 ml però qual è il discorso abbiamo un fungicida che ci copre per la maggior parte ecco delle malattie fungine quindi per un ospora antracnosi alternariosi clodosporiosi wuffa grigia sarebbe la botride sclerotinia basta cioè che volete di più insomma tutto questo genere di malattie a livello preventivo e curativo ok in base all'usaggio invece abbiamo effetti solo preventivi con l'oidio però ad esempio l'oidio nel pomodoro non è un grosso problema non appare nemmeno nelle nostre coltivazioni trattate in questo modo invece nelle cucurbitacee come zucchino melone anguria lì è tutta un'altra storia lì dobbiamo andare ad aggiungere roxyl ne abbiamo parlato anche di questo c'è la nuova versione che è uscita da qualche mese che è molto più efficace va bene e anche lì roxyl va utilizzato se dobbiamo fare un preventivo soprattutto se lo utilizziamo insieme a rn1 bio a 2 ml ma a livello curativo fino a 5 ml ma in generale se andiamo a fare i preventivi in coltivazione giovani se andiamo utilizzare 3 ml di uno e 3 ml dell'altro non dovremmo avere problemi ovviamente poi se le condizioni sono troppo estreme a livello climatico a livello ambientale non sappiamo nel terreno che cosa c'è si possono complicare ma intanto noi dobbiamo fare i preventivi cioè questo è ovviamente alla base andiamo a vedere ora la questione controllo degli insetti e dei parassiti va bene sempre riguardo ai trattamenti fogliari acquosi che cosa utilizziamo allora quello che mettiamo sempre è tannino 4 va bene è una nuova versione un uovo corroborante liquido solo per l'utilizzo fogliare che ha degli effetti preventivi e curativi contro appunto queste avversità soprattutto contro gli insetti a corpo molle ok come cocciniglia come insomma insetti adulti ok quindi i lepidotteri proprio l'adulto e anche questo è utilizzato dai 3 ai 5 ml ok litro a parte che è più economico di molti altri prodotti vi consiglio di metterlo sempre almeno ecco con questi 3 ml al litro preventivo perché ovviamente se entra un parassito a un insetto insomma e si riproduce rapidamente all'interno della nostra coltivazione che sia in serra che sia a pieno campo sono guai grossi quindi anche se noi non vediamo problemi ecco in generale riguardo insetti e parassiti andiamo a fare i preventivi va bene potrebbero esserci larve che non vediamo uova che ancora devono schiudersi e quindi stiamo attenti puoi andare a curare quando c'è un'infestazione a livelli gravi e poi hai voglia di mettere quella e l'altro insomma a parte che non solo è più faticoso ma è anche più costoso andare a curare poi ci sono bio ortica nuovo bio ortica 2024 diciamo e sinabis plus anche in questo caso è un prodotto che si può utilizzare sia a livello radicale quindi come nematocida e a livello fogliare come insetticida va bene se vogliamo sinabis plus è utilizzato insieme a tannino 4 vanno a potenziare e questo effetto che è del controllo degli insetti e dei parassiti ok soprattutto degli insetti adulti questa è una cosa da capire se noi nel trattamento mettiamo anche foliar micro ha anche questo potere di ecco di lavorare bene con gli altri corroboranti insomma sotto il punto di vista di insetticida ecco ci sono cose che si potrebbero approfondire a livello tecnico scientifico ma io sono come sapete un agricoltore quindi non mi sento di spiegare a modo mio ecco queste cose comunque ci sono grossi effetti già visti e testati di questa unione va bene per questo vi dico all'inizio ho detto foliar micro mettetelo sempre perché i vantaggi sono tantissimi ok non solo a livello di biostimolazione di nutrimento con i micro elementi ma anche perché lavora bene sia con altri biostimolanti come il tannino 20 l è anche un biostimolante se vogliamo non è solo un prodotto che dà effetti preventivi e di protezione della pianta dà anche un effetto biostimolante sempre come regolazione della crescita in maniera equilibrata della pianta quindi insomma tante cose che si vanno a sinergizzare ecco quindi tornando un po indietro quando mettere sinapis plus quando andiamo a vedere appunto qualche farfallina che va in giro insomma gli insetti magari le cocciniglie ecco che sono già molto più insidiose andiamo ad aggiungere anche sinapis che solitamente sempre a livello preventivo si utilizza a 3 ml litro fino a 5 ok massimo se ci sono problemi grossi di infestazione dobbiamo andare ad usaggio massimo sicuramente tannino 4 e sinapis plus a 5 ml litro e fare dei trattamenti magari ravvicinati ecco spesso vengo contattato da colleghi che hanno la coltivazione completamente infestata da qualche insetto parassita e non hanno mai trattato così con questo metodo di prevenzione quindi si va a consigliare direttamente un intervento molto importante a livello di volume e di quantitativi di prodotto e devono essere ravvicinati questi trattamenti quindi parliamo di massimo 4-5 giorni non di più nel tempo perché si deve andare a spezzare il ciclo ok riproduttivo dell'insetto sennò insomma non facciamo nulla con un trattamento solo e basta miracoli ancora non ne facciamo invece quando andare a utilizzare o aggiungere o utilizzare anche da solo biortica quando andiamo a vedere problemi a livello di acari e aleuroidi quindi anche il famoso parassita rugginoso ok questo biortica nuovo copre da questi parassiti va bene quindi anche il ragnetto rosso e quando ci sono problemi del genere anche qui siamo attenti andiamo di prevenzione perché il rugginoso anche se lo andiamo a combattere sia in prevenzione che a livello curativo è meglio non lo fare diffondere perché quando si vede già l'effetto del fusto arrugginito nella nostra coltivazione soprattutto nel pomodoro in estate è pericolosissimo insomma già è tardi quindi ogni tanto facciamolo qualche preventivo se bene o male abbiamo un po di esperienza sappiamo che in un determinato periodo appare sempre questo problema non solo del rugginoso ma anche di altri parassiti del genere andiamo a fare il preventivo basta anche 2 ml litro fino a 3 ml litro ok poi si possono utilizzare tutte e tre insieme dipende dalla situazione ad esempio se non avete mai utilizzato questi prodotti magari la prima volta che le andate a utilizzare li mettete tutte e tre insieme con un dosaggio minimo e andate un po a fare un preventivo per coprire da tutto questo cosa utilizzo anche ma periodicamente per potenziare l'effetto insetticida soprattutto l'arvicida e gli oli metto mediamente una volta al mese l'olio di soia ok insieme soprattutto quando ne utilizzo il sinapis plus e almeno un paio di volte nel ciclo di una coltivazione utilizzo l'olio di neem ok sia a livello radicale che a livello fogliare perché l'olio di neem insomma è veramente una cosa che non può mancare in una coltivazione biologica naturale ok fa benissimo sia a livello radicale che a livello fogliare come nutrizione a livello sempre fogliare acquoso sinceramente io preferisco utilizzare solo natural calcio ok va bene che che contiene alla fine azoto e un po di potassio ma comunque principalmente calcio va bene per cosa per nutrire le fioriture quindi dall'inizio fioritura fino a insomma alla raccolta perché nutre anche i frutti gli permette di raggiungere la pezzatura in maniera ottimale di avere una buccia con determinate caratteristiche ecco non utilizzo altra roba a livello di proprio nutrimenti non utilizzo ad esempio npk a livello fogliare solitamente in tutte le coltivazioni tranne qualche eccezione come ad esempio nello zucchino andare a utilizzare un buon composto aiuta molto ecco in questo caso ad esempio utilizziamo natural n 955 ok vediamo se questo anesidio corrisi si leva dalla dell'obiettivo della telecamera ma guardo poi forse siamo costretti a fare i lanci di tuta nelle coltivazioni perché per dare da mangiare agli insetti utili allora visto che siamo un argomento tutto assoluto nel pomodoro e anche in generale lepidotteri nel pomodoro nelle solenacee ma in tutte le coltivazioni cosa si può mettere insieme a tutto questo ambaradam di cui abbiamo già parlato si può aggiungere anche il bacillus thuringiensis che ne abbiamo parlato anche di questo è un prodotto micro biologico è un batterio che attacca le larve dei lepidotteri quindi con tutto quello che facciamo noi già andiamo a colpire sia gli insetti adulti anche un po le larve con gli oli ma se aggiungiamo il bacillus a dosaggi bassi io solitamente lo utilizzo a un grammo litro permettiamo a questo bacillus di arrivare meglio fino alle larve soprattutto quando si tratta di tuta assoluta che le larve sono molto nascoste all'interno della foglia ma anche altri lepidotteri sono così insidiosi ecco non è che è solo la tuta forse l'unico problema della tuta è che si sviluppa più rapidamente rispetto ad altri lepidotteri comunque sia così facendo abbiamo diciamo una copertura molto molto importante ed efficace anche contro la tuta assoluta che in base alla vostra località se non sapete nemmeno cos'è non vi preoccupate se non c'è nella vostra località vuol dire che è un punto dove non si ambienta invece ci sono altre zone come la nostra la nostra è una zona di appunto di produzione principalmente di pomodoro e c'è tanta tuta assoluta tutto l'anno grazie alle nostre temperature e miti anche d'inverno farò un video speciale dedicato a questo argomento sempre tuta assoluta nel pomodoro perché dall'anno scorso utilizziamo un altro prodotto che stavolta è sempre micro biologico però stavolta è un virus che va a colpire non solo le larve ma in generale l'insetto sia adulto sia le uova e che le larve è un virus si chiama tutta vir è nella versione er2 ancora è così con la licenza temporanea ora non so passatemi il termine però funziona ok l'ho anticipata questa cosa appunto l'anno scorso quando l'ho utilizzata la prima volta se seguite il canale rimarrete sicuramente più aggiornati considerate che io anche tanto lavoro qui in azienda e non mi posso mettere a fare video ogni giorno di insomma di tutto quello che succede ma do degli aggiornamenti periodici quindi approfittane se non sei iscritto iscriviti già che sei fino a qua devi mettere almeno un mi piace al video e guarda in descrizione che lascio sempre molte informazioni importanti completiamo il quadro con altri prodotti che utilizziamo sempre ad esempio nell'uso fogliare il propolis che continuiamo ad utilizzare perché attira gli impollinatori ok per far allegare meglio le fioriture delle nostre coltivazioni magari ci sono dei periodi come ad esempio fine inverno inizio primavera sbalzi di temperatura le fioriture potrebbero essere poco appetibili agli impollinatori utilizzando propolis miglioreremo molto la situazione chiedo scusa ma a questo punto le registrazioni iniziano a laggare perché il mio dispositivo è abbastanza vecchiotto e con il calore anche se non è eccessivo non si comporta bene ne approfitto per ricordarvi che di tutte queste cose ne parlo in maniera tecnica approfondita nei video dedicati agli abbonati così se ne volete approfittare per supportare il mio lavoro prego considerazioni da fare per avere ottimi risultati ovviamente i prodotti si devono utilizzare bene ma si deve partire dalla base cosa vuol dire dobbiamo avere un terreno ok ricco a livello organico quindi preparazione di base organica fatta bene sono cose di cui ho parlato molte volte nel canale magari si è evoluta nel tempo questa cosa considerate che noi arriviamo a coltivare anche senza solarizzazione senza anche senza sovescio nel pieno campo senza ovviamente l'utilizzo di pesticidi fumiganti e altre robe chimiche con questo metodo e abbiamo grandissimi risultati a livello di qualità del prodotto finale sia a livello di quantità ok raggiungiamo le medie ok del settore e in alcuni casi le abbiamo anche superate però ecco non non dobbiamo cantare vittoria non è che non possiamo dire che utilizzando questo metodo avrai risultati migliori del mondo e ovviamente bisogna vedere che varietà andate a fare in quale periodo ma vi posso dire che da molti anni che faccio questo lavoro e chi era prima di me insomma quindi nelle varie generazioni e vi posso dire che i risultati che abbiamo quantomeno sono paragonabili a quelli dell'agricoltura convenzionale ok anche i costi se andiamo a vedere andando a lavorare di preventivi il problema è che i costi sono appunto costanti perché dobbiamo fare i preventivi però se andiamo a pensare tutte le volte poi ci sono stati problemi no con i metodi convenzionali che si va direttamente a fare l'intervento curativo poi magari o non si riesce a curare o comunque si devono andare a fare interventi con dosaggi e volumi ecco di trattamento anche esagerati per andare o comunque per cercare di andare a risolvere i problemi e poi si vanno a spendere più soldi e magari il danno alla coltivazione rimane anche se non totale e quindi se si vanno ad analizzare tutte queste cose soprattutto la cosa che voglio fare capire mi piace dire proprio a tutti e ai colleghi è che stiamo vedendo che anno dopo anno migliora la condizione del terreno come dicevo prima i nematodi sono spariti dal livello di fusarium i problemi ogni anno sono sempre meno in alcuni punti non appare più e come sappiamo sono tutti problemi grossi e considerate che andiamo a coltivare pomodoro per la maggiore qui dove sono adesso e abbiamo messo pomodoro su pomodoro nel senso abbiamo tolto la coltivazione quella estiva e abbiamo trapiantato in quella precoce invernale in gennaio pomodoro su pomodoro sta crescendo benissimo si vede i risultati così ad occhio dal colore della pianta da come sta crescendo il fusto la foglia le fioriture ormai abbiamo imparato diciamo dopo quasi 16 anni che coltiviamo in questo modo insomma ci abbiamo preso la mano però cioè alla fine non è difficoltoso se parliamo di un'agricoltura a livello professionale ahimè sappiamo che ci vogliono un insieme di strumenti ecco per andare a lavorare ovviamente per lobbistica andare ad adattare questo metodo si deve andare a vedere un po caso per caso perché non si possono andare a prendere tutti questi prodotti che costerebbe troppo e poi i dosaggi insomma e il consumo totale in una coltivazione piccola a livello obbistico è poco magari sei costretto a prendere una confezione da un litro del prodotto che non lo utilizzi tutto e quindi bisogna stare attenti a non fare sprechi andare ad ottimizzare la cosa altri prodotti che continuiamo ad utilizzare come dicevo prima il natural n 955 e il natural k 5510 però in questo caso questi due non sono consentiti in bio perché contengono bassissime percentuali di nitrati però considerando i dosaggi consigliati di questi prodotti alla fine se li utilizzate considerate che userete circa un ventesimo dei nitrati che si utilizzano in agricoltura convenzionale quindi non ucciderete nessuno nel mondo nell'ambiente come concime di base utilizziamo nelle coltivazioni di pomodoro il tellus va bene il tellus perché è specifico è stato creato proprio per la coltivazione di pomodoro va bene invece per tutte le altre coltivazioni sia per la vigna per l'olivo per gli ortaggi a piano campo utilizziamo olia bio 555 ho dimenticato di parlare del natural micro questo prodotto rimane comunque però solo per l'utilizzo specifico in caso riconosciuto di problemi a livello batterico sia come fogliare che come radicale va bene però in ogni caso farò una scheda dettagliata e un po riassuntiva magari diciamo più rapida e la pubblicherò sul blog troverete vi lascerò il link in descrizione in questo video prima possibile bene per questo video lunghissimo è tutto ci vediamo spero presto nel prossimo video dove parlerò della questione tuta assoluto che in questo piccolo speciale lo voglio fare a parte perché spero che venga un po divulgato insomma noi stiamo avendo grossissimi risultati contro questa piaga e come sapete è un argomento a cui tengo molto c'è proprio la playlist anche debelliamo la tuta assoluta vi ricordo ancora che questi prodotti si possono acquistare anche per l'utilizzo in piccolo su verdura zone vi lascerò il link in descrizione poi vi lascerò anche il link di naturalmente sempre in descrizione così se volete altri dettagli volete andare a vedere un po le descrizioni dei prodotti proprio alla casa produttrice vi ricordo che io non sono qui per sponsorizzare o pubblicizzare ma sono i prodotti che abbiamo adottato questa linea perché insomma come dicevo prima in un contesto di agricoltura professionale non è che hai solo un prodotto che funziona si deve creare una sinergia con i vari prodotti sia con cimi che corroboranti biostimolanti devono lavorare bene insieme ecco questo è il discorso per avere grandi risultati se hai un prodotto che ti dà buoni risultati sotto un punto di vista un altro prodotto che dà ma quando li metti insieme o non li puoi utilizzare quindi si vanno a complicare le cose qui parliamo di un metodo che si può adattare benissimo con i mezzi già esistenti nell'agricoltura convenzionale cioè possiamo fare il passaggio anche subito e però rispettiamo l'ambiente anche perché tutti questi prodotti sono a estrazione acquosa con procedimenti meccanici cioè non ci sono dietro lavorazioni chimiche perché in molti casi così molti prodotti per l'agricoltura biologica magari vengono prodotti a livello industriale e vabbè lasciamo stare io vi ringrazio per l'ascolto vi saluto mi raccomando continuate a fare i bravi picciotti le brave picciotte e a presto